A tutti, bravo alle chiave, ricevuto, puntate solo le guardie, usate i prigionieri come copertura durante la luce Libero, altre nelle celle sul lato sinistro, falle fuori Aspetta, resta in alto, colpisci quelle torte Guarda, apertura blocchi da unico Libero, controlla le prossime Bocchi a fetti, le guardie sanno dove siamo, bravo, nelle celle di livello 1 Ricercato, apro Contatto Blocco libero, scendiamo. Alfa si sposta al sottolivello X4.